Buonasera, scusate il ritardo, ma l'ospitona sta arrivando, l'ospite d'onore della serata, per cui, attendendo che arrivi, vi dico, probabilmente siete tutti espertissimi di Roger Corman, forse no, vi dico due cose. Allora, Corman è stato, come sicuramente sapete, re indiscusso, genio assoluto della serie B a partire dagli anni 50, era un signore che faceva veramente film con 10.000 dollari e spesso riusciva a fare due film con uno, praticamente, gli capitò con The Terror e The Raven, in cui aveva sotto contratto Peter Lorre, Boris Karloff e Vincent Price, finì uno dei due film, aveva ancora Karloff per una settimana e in una settimana fece un secondo film con Karloff. Lui si era esercitato con tutti i possibili generi cinematografici, ma fra l'altro dei bellissimi gangster movie, aveva cominciato a fare dei piccoli horror comici, ce n'è uno magnifico che è The Little Shop of Horrors, da cui poi è nata La piccola bottega degli orrori musicale e il film La piccola bottega degli orrori, però se vi capita di vedere quello di Corman è veramente molto divertente, con per esempio Jack Nicholson che fa il paziente masochista del dentista sadico, una comparsata straordinaria, perché Jack Nicholson è uno dei tantissimi New Hollywood che hanno cominciato con Corman, e poi a un certo punto cominciò a fare i film da Edgar Allan Poe, che è difficilissimo da rendere perché i racconti di Edgar Allan Poe sono nulla in realtà, generalmente non c'è storia, in particolare in quello che vedete stasera non c'è storia, sono quattro pagine, è semplicemente il pozzo e il pendolo, per cui doveva costruirci però, per arrivare all'ora e venti più o meno necessari, ci doveva costruire intorno delle cose. Se non sbaglio il primo che ha diretto, quelli che si chiamano ormai Corman Poe, è la caduta della casa Asher, che era già quello, se vogliamo, anche un po' più corposo come narrazione. E il protagonista di quasi tutti, non di tutti, tranne il sepolto vivo, ci fu l'accoppiata geniale, Vincent Price, Corman con Vincent Price, perché Vincent Price aveva il tono giusto per fare passare, qui vedrete quando fa Nicolas Medina, che è un pazzo esattamente come Asher, era anche Asher, è un signore che ha dei problemi di vista e dei problemi di sensitività uditiva che lo disturbano per tutto il tempo, e faceva passare quel filo di humor sotto le interpretazioni, un filo di humor che nonostante la cupezza terribile e veramente angosciante di tutti i racconti di Edgar Allan Poe, c'è comunque in Poe. E proseguì, fece lungo gli anni Sessanta, fece soprattutto film, non solo, soprattutto film da Poe, l'ultimo dei quali è, se non sbaglio, La tomba di Ligeia, che è l'unico con un budget, girato in Inghilterra invece che in America, che è l'unico con un budget un po' più sostanzioso rispetto agli altri. La cosa bella dei Corman Poe è che Corman lavora, avendo set che è sempre lo stesso, in pratica la visione del castello dall'esterno che è sempre la stessa, lavora moltissimo sul piano visivo, e infatti qui vedrete che ci sono tutte le parti dei flashback e degli incubi che sono girate in maniera, mi verrebbe da dire, psichedelica. D'altra parte Corman è quello che poi a un certo punto ha fatto Hells Angels, no scusate, Hells Angels erano quelli che lo interpretavano, non mi ricordo il titolo, comunque... No, lo psichedelico è The Trip, ma prima di The Trip aveva fatto... Wild Angels, bravi, che abbiamo fatto vedere gli anni passati nella New Hollywood, cioè arrivò direttamente sulla controcultura e sulla psichedelia di The Trip, ma questo è già totalmente un film psichedelico. Sono tutti dominati da Price e poi quelli più comici, Lore o Karloff, e ci sono anche delle eroine femminili. È probabilmente la più incisiva, anche perché è quella che ci ricordiamo di più, anche se non si vede tantissimo sullo schermo, poi io tanto immagino che Barbara Steele vi dirà tutt'altro, quindi non si vede tantissimo sullo schermo, però è chiaro che si vede di più Luana Anders, che è la sorella di Nicola Smedina, la sorella di Vincent Price. Però è chiaro che la figura femminile dominante è quella di Barbara Steele. Comunque, sul suo lavoro con Corban facciamo parlare la Steele quando arriva. Purtroppo nella retrospettiva, se non sbaglio, c'è solo questo e la Maschera della Morte Rossa. Maschera della Morte Rossa che è un altro di quelle in cui ci ha dovuto costruire un po' di roba intorno, perché anche quella è un racconto di poche pagine, e ovviamente tutta la parte finale è le poche pagine del racconto, esattamente come accade in questo film qui. E però appunto, nonostante anche... Erano abbastanza dozzinali, cioè erano storie normalissime, lo scudiero che arriva e che deve salvare la fanciulla, sostanzialmente. C'è un mistero nel castello, nel palazzo, nella casa Aschera, eccetera, e c'è una signorina che in qualche maniera forse va salvata. Capita negli Ascher, capita qui, non capita nella Morte Rossa perché è un'altra cosa. Ecco, nonostante la... mi verrebbe da dire quasi la banalità delle storie, però Corman ce l'aveva proprio dentro, probabilmente. Le atmosfere e la sensibilità di Poe che è veramente... cioè è un gotico, ma è un gotico completamente americano, cioè la narrativa di Poe non c'entra nulla con la narrativa gotica tradizionale europea. e Corman lo sposava molto bene e appunto aveva capito che era la macchina da presa che doveva inquietare, che doveva sbalestrare gli equilibri e hanno funzionato, non ci credeva nessuno. Quando cominciò a produrli, quando cominciò a farli non ci credeva nessuno. Tra l'altro aveva anche degli sceneggiatori molto bravi, se non sbaglio qui potrebbe essere Richard Matheson. Sì, è Richard Matheson lo sceneggiatore. E il direttore della fotografia è Floyd Crosby, che è un altro grande direttore della fotografia. Mentre il direttore della fotografia della maschera della morte rossa è Nicolas Regg, che poi dopo passa, che allora ha fatto grandissimi film come fotografo e che poi dopo passerà alla regia con i film che tutti conoscete. Ecco, lavorando con questi personaggi, lavorando con degli attori che erano addestratissimi al suo ritmo e alla sua maniera di lavorare, ha fatto veramente dei piccoli gioielli che naturalmente la critica, io non so neanche se li trattò male, praticamente non venivano assolutamente considerati, come molti horror poi di quegli anni, come anche la maggior parte degli horror hammer. Non venivano neanche maltrattati, come furono invece ingiuriati, maltrattati gli horror della hammer all'inizio, fu un vero massacro. Venivano proprio considerati praticamente nulla e poi a un certo punto cominciò abbastanza presto il recupero da parte della critica francese, che sono sempre arrivati prima di tutti gli altri su queste cose, come grande visivo per Roger Corman. Ed effettivamente Roger Corman è stato anche un grande visivo, è stato prima di tutto un grandissimo produttore e un grandissimo scopritore di talenti, gli ha scoperti tutti lui. Hanno lavorato tutti con lui e hanno imparato tutti con lui a fare anche i film con poco, ha imparato persino Scorsese, che poi non ha mai più fatto, credo, i film con poco, ma per esempio Jonathan Demme gli ha sempre reso omaggio sostanzialmente e tra l'altro Jonathan Demme, ma non solo lui, lo ha spesso piazzato come attore Corman nei suoi film e facendogli sempre fare la parte della carogna, quasi sempre, a partire da Filadelfia, ma anche molti altri. E appunto è stato prima di tutto un grandissimo produttore, un grandissimo scopritore di talenti, ma è anche stato lui stesso un talento visivo, che poi ogni tanto se ne è scordato, l'ha abbandonato, era prima di tutto produttore, però bisogna assolutamente rendergliene merito. Secondo me, come ha fatto lui, stavo pensando a altri autori che hanno lavorato su Edgar Allan Poe, sostanzialmente non me ne viene in mente nessuno, al di là del fatto che la sua sia una lunga serie, che ha catturato, colto così bene lo spirito di Poe come l'ha colto Roger Corman, pur giocandoci sopra, pur scherzandoci e pur in qualche maniera demitizzandolo. Però quando si arriva al punto, quando si arriva al sotterraneo, quando si arriva nelle crepe che si aprono nei muri di Kasasher, il sotterraneo con la tortura qui, e quando si arriva al Gran Ballo, a tutta la parte della pesta, la maschera della morte rossa, allora lì siamo proprio in pieno. Edgar Allan Poe, quello che ci fa davvero paura. Credo che sia arrivata la signora Barbara Steele. Mi hanno fatto segno, per cui credo sia arrivata. Vabbè, intanto... Non so... Allora, intanto domani sera c'è la maschera del demonio. Comincio a parlare di quello. Nel quale consegniamo il Gran Premio a Barbara Steele. E la maschera del demonio è davvero un capolavoro. E Mario Bava era uno, e anche Freda. Entrambi erano costretti a girare, credo con più o meno lo stesso budget, probabilmente meno ancora di Corman, perché comunque gli americani erano sempre un pochino più ricchi degli italiani. e mentre Freda, secondo me, è più bravo, anche se ha fatto degli ottimi horror, però è più bravo nel melodramma, anche storico soprattutto. E probabilmente nel thriller, e Bava, padre, Mario Bava, ha dato veramente il massimo nell'horror. e ha una visione. Bava addirittura era quello, una volta, non mi ricordo per quale film, ha raccontato che faceva i carrelli tirando indietro il tappeto, appoggiando la macchina da presa e tirando indietro il tappeto. Eravamo a questi livelli qui, come budget, come investimento. e ha veramente, ce l'ha veramente nell'anima e ce l'ha negli occhi soprattutto. E la maschera del demonio è davvero un capolavoro, è un film abbastanza impressionante. Allora, torniamo al Pozzo al Pendolo, vi presento la protagonista, Barbara Steele. I spoke already a little bit about Corman and his work, and so you can say, how did it work? Come hai lavorato con Roger Corman? No, I was in London, and I think he must have seen Black Sunday, Roger, and he invited me to make this film. I have a very, a very small part in this film. She's referred to a lot, but actually, the whole thing is, I think we shot the whole thing in eight days, like every Roger Corman movie. And I flew to L.A., and I met Roger, and he was completely charming. I was very shocked because he looked like the most elegant bank manager. Yeah. And then, so he had this duality, and then he had this other side that would be so eccentric, and generous, and creative, in like endorsing all these young directors, which was phenomenal, you know, as you know. They all made their first films with him. Coppola, Joe Dante, Scorsese. Demi. John and Demi. All of them. Practically everybody is an Italian. Why? Vado? Okay. Well, I was in London when he came to call me. I think he saw me in The Mask of the Demon of Bava, which in English is Black Sunday, and he came to call me. And I was going to Los Angeles to him, and I remained really fascinated. like all the producers of Corman, of course, I have also a small part, but we have, more or less, but we have been working on it, in many days, eight days, exactly like all the films, all the producers of Corman, and a small part in the other film. And I remained fascinated by him, by this incredible person, which in reality, when I saw him, I was surprised, and fascinated, because he seemed like a banchier, elegante, an elegante banchier, ed era una persona fabile, elegante, cortese, un po', aveva questo dualismo, in fondo, di personalità, no? Anche il Darkman, da fabile, era molto generoso, generoso anche con i giovani registi. Lui ha supportato tantissimi giovani registi che hanno incominciato, hanno fatto il loro primo film, proprio grazie con Corman, Coppola, Joe Dante, Scorsese, Jonathan Temer, praticamente il gruppo degli italiani. Yeah, maybe, yes, he invented independent film. Praticamente ha inventato il cinema indipendente. holiday. See, and we all made these films for a dollar twenty, with an enormous urgency and great passion, it was a lot of fun. I have to say that... Microphone. Ah. Microphone. Sorry. Louder. Louder? Yes. Okay, now I'm, I have nothing to say. Wait a minute. Yeah, okay. Eh sì, è praticamente, è stato sempre tutto divertente perché abbiamo fatto questi film che si venivano girati in pochi giorni praticamente a produzione di un dollaro e venti, diciamo, veloci veloci ed è stato veramente molto coinvengente e tutto divertente. Sì. And you stopped there. Yes, I did. Well, yes, so, Mike. Well, this film, The Pit of the Pendium, takes place during during the Spanish Inquisition and it's actually, it looks very formal and it's beautifully made and I adored Vincent Price who I always felt should have been a classical English actor along with Olivier and Gielgud and everything because he had this incredibly aristocratic formal manner and then he got stuck in horror like me forever and ever and if you get to one horror film that's a success that's the lens that you'll always be perceived in you'll never be able to do anything else so beware any young actresses out there So, to talk about Pozzo il Pendulo the action has a place during the period of the Spanish Inquisition and it's an absolutely an absolutely involved in this sense with an incredible Vincent Price that I've always loved and always admired for the extreme eleganza not only in the recitation but as a person extremely aristocratic and elegant in the very intelligent and I've always thought that he would have to be annoyed by the great actors like the British to the the Olivier Gilgoul Però invece è venuto, è rimasto praticamente bloccato in America, diciamo così, nelle produzioni del film horror, perché quello che si fa in genere, e questo è un avviso anche per qualsiasi giovane attrice che possa essere presente nel pubblico, una volta che tu sei stato coinvolto in una produzione, in film horror, li resti. Nel senso, quello sarà l'obiettivo, la lente attraverso cui ti vedranno e non riuscirai più a uscirne. E mi ha sempre, diciamo che mi ha sempre lasciata un po' così sorpresa, ho sempre pensato alla faccenda di questo film, che in realtà è una produzione estremamente, dal punto di vista recitativo, e di messi in scena così formale, elegante, sembrava un balle elegantissimo, no? Quella recitazione, balletto formale, bellissimi costumi raffinati, e poi recitato con un accento smaccatamente americano. È una cosa che assolutamente non funziona, è come fare un western, no? E fare che i cowboy e così via parlino con un accento smaccatamente britannico. Non funziona assolutamente. Per cui il film sarebbe meglio vederlo in italiano o con i sottotitoli. Infatti poi i protagonisti del film in Spagna, durante l'inquisizione spagnola, si chiamano Elisabeth, Nicolas, cioè hanno tutti i nomi inglesi. Il cognome no, è Medina, però hanno tutti i nomi inglesi. E perché, no, è una curiosità, perché non hai più fatto film con Corman? Perché poi, dopo aver fatto questo film con Corman, Barbara Steele è tornata in Italia e ha fatto una grande quantità di film italiani, non solo horror. Mi chiedevo perché, magari perché Corman non l'ha più chiamata, perché non si sono più incontrati, perché secondo me stavano bene insieme. E lei stava molto bene con Vincent Price, effettivamente. Cioè hanno qualcosa negli occhi che in qualche maniera si assomigliano. E comunque anche Vincent Price l'ha sempre scritturato come cattivo, anche prima che diventasse un vivo dell'horror. Sì, sì. Well, I don't know, you know, in those days Europe was very far from Los Angeles. I don't think the jet had even been invented, so you had to take like a 21 hour airplane flight just to get there and to work for four days. Era una grande fatica, non lo so. You should speak it in English. Beh, non lo so, forse perché a quell'epoca l'Europa era assolutamente lontana, molto lontana da Los Angeles. E forse non avevano neanche ancora inventato il jet. Per cui bisognava sottoporsi a una roba tipo a viaggi del tipo di 21 ore consecutive, magari per lavorare solo quattro giorni di fila. Per cui, sì, certo. E vorrei sottolineare una cosa. Lei ha detto, ho una piccola parte nel pozzo il pendolo. Infatti ho detto all'inizio, prima che Barbara arrivasse, che viene fuori molto tardi. Cioè, in teoria, l'altra donna, che è Luana Anders, ha una parte più grossa della sua. Però, in realtà, è il personaggio che ossessiona il film. Perché per tutto il film non si parla altro che di Elisabeth Medina, che è lei. È quella che tutti, uno vuole sapere perché è morta, uno vuole sapere come è morta, si chiedono se è davvero morta, eccetera. Quindi, in realtà, il cuore del film sei tu. Sì, questo è vero. Ok, ok. Ok, parla solo in italiano. Thank you. Grazie, buon divertimento. E l'appuntamento è domani sera, sempre qui, se non sbaglio, per la maschera del demonio e il Gran Premio Torino a Barbara Steele. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.